Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio portare un gioco che aspettavo da tantissimo tempo e che avevo soprattutto molta curiosità e moltissima voglia di provarlo perché ne ho sentito parlare benissimo. Si parla ovviamente di Sword and Sorcery, che qui vedete la scatola base è la versione retail, non è la versione Kickstarter, comunque scatola base del gioco più l'ultima espansione che è appena uscita, il cui nome è Verso le Tenebre e questa è la nuova espansione uscita per il gioco, gioco che già conta altre espansioni, come potete trovare nel primo link in descrizione tra l'altro per acquistarle tutto, ma anche sul sito della Devir, che ovviamente ringraziamo sia la Devir che l'Ares per averci un offerto queste due copie omaggio, grazie veramente ragazzi, grazie di cuore, è un onore immenso collaborare con voi e speriamo insomma che possa durare, grazie veramente perché era un gioco che attendevo da tantissimo tempo. E dicevo sul sito della Devir potete vedere tutte quante le espansioni che sono uscite finora. Ne hanno mandato ovviamente un personaggio opzionale che dovrebbe essere in forma normale, in forma spirituale, più le carte che ci sono qua dentro ovviamente con tutti i token e la gemma dell'anima, perché questo me l'hanno mandato per far vedere che comunque il gioco non ha soltanto espansioni vere e proprie come questo, che inserisce novità, i nuovi personaggi, i nuovi mostri, ma anche piccole espansioni dove si vanno ad aggiungere un po' come Massive Darkness personaggi nuovi. Quindi comunque andate a vedere il sito e trovate tutto in descrizione. Allora c'è da dire che avendo letto il manuale, ovviamente di tutti e due, e voglio farvi quanto prima un gameplay insieme a mia moglie della missione introduttiva, c'è da dire che non vi voglio dire nient'altro, cioè niente in più della recensione finale della valutazione perché quella è la parte finale. È molto particolare, vi dico questa cosa. Forse è un po' complicato all'inizio da capire tutto quanto, anche perché, ora ve lo faccio vedere, il manuale conta 50 pagine e quindi il primo che lo apre si mette paura. Cioè andiamo a vedere un Hero Quest 5-6 pagine, un Massive Darkness 15, 50 pagine, ti metti paura, ma non è tutto lì. Cioè, non è che uno si deve fermare soltanto al numero delle pagine, deve vedere anche la complessità appunto delle regole e non è complesso per nulla. Gioco pieno zeppo di miniature, fatto veramente molto bene e che secondo me non soltanto si è ritagliato uno spazio nel panorama dungeon crawler a livello mondiale, ricordo che è un progetto completamente italiano questo, ma secondo me è entrato veramente nella top 10 dei giochi più belli in ambientazione di dungeon crawler. Unboxing, scatola del gioco base, anime immortali, perché nel gioco andremo ad interpretare questi eroi che sono grandissimi eroi leggendari del passato che sono morti e sono stati riportati in vita come il Revenant. Infatti tutte le regole del gioco girano intorno appunto a questi personaggi che piano piano devono passare di livello, cosa geniale secondo me come trovata, per riacquistare tutti i poteri che hanno perso con la morte. Veramente bellissima la scatola, bella grande che, guardate la mano, quindi molto larga ma perché è piena zeppa di contenuti. E' veramente bellissimo, i disegni che ci sono anche sulle carte e tutto, la grafica usata è veramente bellissima. Apriamo, libro delle regole, che è quel tomo che vi dicevo, pieno zeppo di regole, pieno zeppo di esempi, scritto veramente bene. Ora vi voglio far vedere una cosa, però guardate là, cioè uno si trova un manuale del genere con 50 pagine, è normale insomma mettersi un pochino di paura. Però è più facile, cioè non è il fatto che le regole sono tante, sono poche e sono spiegate in 100.000 esempi differenti anche per farvele entrare meglio in testa. Quindi il regolamento è scritto molto bene, però è bello corposo. Poi, andando un attimino qui e leggendo qui, o voi intrusi, guai a voi, dolori coscienti e morte, intrisi nel sangue, aspettano chi si impossesserà di questa mappa. Ora, ai due autori, per aver fatto questa citazione, non so se qualcuno se ne era mai reso conto, io vi faccio i miei complimenti e un applauso sentito perché l'avete presa dai Goonies. Quindi, come richiamo ai Goonies e come omaggio ai film anni 80, siete i numeri 1. Il libro delle storie, dove ci sono tutte quante le avventure del gioco, vi si fa vedere quella principale, è un po' ovviamente la storia, l'ambientazione, perché questo gioco è tipo ira, questa è. Cioè, la storia è un componente veramente molto importante a livello di gioco, anche perché il gioco ha tutte queste missioni qui, che sono tipo una decina, e potete anche giocarle come single shot. Però, questo gioco single shot perde l'80% della sua bellezza. Foglio riepilogativo delle regole di gioco, quindi il flusso di turni e cose del genere. Tile di gioco, componibili, ora poi si vanno a aprire e vi si fanno vedere, numerati, come nel caso dei giochi dell'Akmon, per trovarli più facilmente. Tutti i vari token, che in questo caso qui sono i token nebbia, e insomma, bello corposo, c'è un bel po' di materiale anche girato, visto di qua. Insomma, i token in questo gioco sono abbastanza punti ferita, monete d'oro e altre cose. Libro dei segreti, che quando arrivate in certi punti della missione, il gioco vi dice, andate alla missione 1, paragrafo 1, e dovete leggere la storia per quello che succede. Molto, molto, molto bellino. Schede dei giocatori. Tabella di attivazione dei mostri per l'intelligenza artificiale. Tabella di attivazione dei mostri, questi sono quelli elite, porpora, e poi altri mostri che ci sono all'interno del gioco. Vari mazzi, incontro, evento, equipaggiamento, tesori e quant'altro. Dadi di gioco, che sono rossi e blu, di solito attacco e difesa, oppure per abilità speciali. Stendi vari e pippolini di plastica per le gemme dell'anima, che poi vi faccio vedere. E uno sbotto di miniature, che poi vi facciamo vedere comunque anche un po' nel corso del video. Allora ragazzi, come vedete, ora mia moglie fa un attimino una carrellata del tavolo. Di carne al fuoco ce n'è veramente troppa. Vedete, fra segnalini, simboli dell'anima, tabellone di gioco, dadi, token, miniature, ce n'è veramente, veramente troppo. Però, non vi dovete farvi un attimino scoraggiare o mettervi paura, perché il gioco, ragazzi, è semplicissimo. Cioè, c'ha veramente pochissime regole, però la quantità e la mole di cose da dover tenere a mente sono tante. Però, questo è il classico gioco che, con un master che ci ha già fatto qualche partita, o magari qualche amico che ha già finito un'avventura, ci fate due partite e tutto tornerà chiaro. Perché, ribadisco, le regole sono poche, ma purtroppo sono tante cose da tenere a mente e tanti simboli. Ora, non vi farò vedere una partita completa, perché ci vorrebbero dodici ore di video. Tanto il manuale vi spiega tutto per bene, in cinquanta pagine, anche troppo, secondo me. Però, vi faccio vedere le cose principali. Allora, questa è la mappa di gioco. Questa che vedete qui, ora poi vi descrivo un pochino tutto. E questa è la prima avventura del gioco, che è il prologo. Vedete, nell'avventura, per farvi vedere dei segnalini particolari, sono tipo le porte, segnalini traccia, che servono praticamente per attivare parti della storia, in particolare, da leggere direttamente nel libro dei segreti. Quindi, quando il vostro personaggio arriva nella casella con una traccia, la rimuovete e andate a vedere nel capitolo del prologo, traccia numero uno, quello che succede. Quindi, questo è un po' come il libro delle missioni di Hero, queste se vi ricordate. Questo è un altare, in versione attivo, o tipo altare disattivato o rotto. E questo serve per riportare in vita i giocatori, perché vi ricordo, in questo gioco, che è una cosa bellissima, quando un personaggio muore, vi faccio vedere subito, i personaggi sono gli eroi, che sono le vostre carte, che ora poi vi vado a descrivere, più la forma spirituale. Praticamente, in questo gioco, quando un giocatore muore, continua a giocare anche da morto, perché vi ricordo che i vostri personaggi sono Revenant, antichi eroi riportati in vita da una magia molto potente, quindi, tra molte virgolette, sono immortali. Potrete continuare a giocare anche da morti, ovviamente con alti abilità e tutto quanto, o, andando qua giù e spendendo punti anima nel pozzo, nell'altare, potrete riportare l'eroe in vita. Segnalini nebbia, che una volta girati, poi vi faccio vedere, dietro c'è un simbolino che vi dice se avete incontrato un mostro, avete fatto scattare una trappola o altre cose. Queste sono, ovviamente, in linea di visuale. Carte evento numerate, che si attivano direttamente quando finite su quella casella lì, quindi, finendo su questa casella, che questo è l'evento numero uno, andrete a girare l'evento e guarderete cosa succede. Ora l'abbiamo messo scoperto per farvelo vedere, comunque dovrebbe stare dalla parte coperta. Andate su questa casella e si attiva un evento. Scheda del personaggio, questa qui è la plancia del personaggio, la gemma dell'anima, che dovete montare e dovete sempre ruotare in senso orario, e sulla gemma dell'anima, vedete, c'è il livello intanto dell'anima, che è il livello del personaggio, qua su in cima, più altri valori, che sono tipo i punti ferita del personaggio, le azioni, pugno rosso di combattimento che può fare, quello giallo è il numero di azioni invece che può compiere, e quest'altro qui sono le carte poteri innati che può avere. In questo caso qui tutti gli eroi di partenza ne hanno uno, più un omaggio. Equipaggiamento, carta di partenza, che è un oggetto da usare a una mano, un martello da guerra, e vi ricordo che le armi con scritto in massa a destra, scorta, sono carte che praticamente gli eroi possono prendere gratuitamente all'inizio dell'avventura, o in una fase di emporio, se il manuale all'avventura lo spiega. Se invece dall'altro lato lo girate e c'è scritto forgia, vuol dire che la stessa arma può essere potenziata all'emporio, spendendo ovviamente dei soldi, può essere potenziata, e vedete che dietro c'è una versione più potente. Comunque, tutte le carte scorta le potete scegliere all'inizio dell'avventura e spartirvele nel gruppo, gruppo che ricordo essere di un gioco totalmente cooperativo. Scheda del personaggio, che ci dà il livello di movimento del personaggio, il tiro salvezza del personaggio, e la quantità di roba che può portare nello zaino, più le abilità speciali del personaggio, il nome, ovviamente la raffigurazione e tutto quanto, l'armatura, che anche l'armatura è un equipaggiamento sia di partenza, che si può le comprare, quindi come scorta, che si può anche forgiare, perché tutte le armi in questo gioco, o quasi tutte, si possano potenziare, e da questa parte le abilità innate del personaggio, che sono divise per livelli, livello 1, vedete, e livello 4. Ad esempio, questa invece ha soltanto un livello 1, è il livello dell'anima. Se un'abilità è livello 1, la potete usare soltanto se avete anima 1 o più. Ovviamente, se siete di livello 2, anima 2, non potete usare un potere a livello 4. E in più, c'è questo piccolo segnalino in fondo, che serve per identificare che il nano, il personaggio, è stato utilizzato. Quindi ha finito le sue azioni. Le carte qua giù in fondo servono per pescare incontri, quindi per vedere che cosa succede, e soprattutto quali mostri muoveranno e attaccheranno i giocatori, il gruppo. Mostri che ovviamente si muovono con un'intelligenza artificiale predefinita. Carte nemico. Servono invece, quando andate a girare i segnalini nebbia che vi ho fatto vedere prima, andate a vedere dietro. Se vi dice, ok, è uscito un mostro, col segnalino del mostro, cose del genere, voi andate nella carta mostro, nella carta nemico girate e vedete che tipo di mostro entra in campo. Nella prima avventura, gli unici mostri che possono entrare in campo sono i goblin, i gremlin, blu e verdi. Questi sono gli unici mostri presenti nella prima avventura. I poteri del nemico. Nel caso il mostro avesse il segnalino, vi ricordate quello nero, questo qua giù sulla scheda, vorrà dire che a quel tipo di mostro più potente rispetto agli altri gli dovete affidare una carta potere nemico che poi andrete a prendere e gliela affiderete. Poi, trappole. Se ovviamente dietro quel segnalino ombra sbuca una trappola o ogni volta che andate tipo ad aprire uno scrigno o aprire una porta anche, ci potrebbe essere una trappola, girate dal mazzo delle trappole e vedete se esce qualcosa. Tesoro, quando ve lo dice l'avventura o quando aprite uno scrigno. Carte emporio, qua giù in fondo, queste qua, quindi quello che potete comprare al negozio e tutti gli altri oggetti che possano essere trovati nel corso dell'avventura. Vi faccio vedere ovviamente ragazzi alla sverta per darvi una veloce infarinatura in una partita a due, dove poi, secondo me, la partita per divertirvi di più è a tre o quattro giocatori. Comunque, prendiamo il nano e vediamo che il nano può portare di base tre oggetti. Ah, scusate, non ho detto una cosa. Ci sono anche le classi di personaggi che potete scegliere all'inizio dell'avventura e gli allenamenti, perché in questo gioco si può essere legali, neutrali o malvagi. Non si possono fare gruppi misti, ovvero mezzi legali e mezzi malvagi non si possono fare, però potete fare, che ne so, mezzi malvagi e mezzi neutrali, perché il neutrale sta nel mezzo, quindi non ha problema stare con tutte e due. Però, se fate un gruppo legale, dovete farlo tutto legale. Se lo fate malvagio, tutto malvagio, non legale e malvagio. E cambia l'avventura, cambia la storia, perché succedono cose particolari o anche semplicemente tipi di carte legate all'allineamento che non potete utilizzare se siete dell'allineamento opposto. Comunque, facciamo conto che il nano si trova in questa casella qui, questa qua. La sua scheda dice che il nano si muove di tre, ok? Quindi il movimento si può fare una sola volta per turno. Quindi una volta che avete fatto il vostro movimento, non potete farlo più di una volta. Potete fare l'azione di corsa che vi muovete di più caselle, ma a parte quello, il movimento del nano è tre. Le caselle, vedete, sono divise come in un qualsiasi gioco, tipo una, due, le vedete, le riconoscete tranquillamente, anche e soprattutto quando c'è una X, che ora vi spiega cosa serve. E poi vedete che semplicemente sono collegate, quindi un movimento potrebbe essere uno, due, ok? E tre, andare qua giù, perché mi muovo da questa casella, oppure, visto che c'è ancora i due, potrei anche andare qui, mi potrei muovere qui e potrei andare di là. L'unica limitazione è quando non c'è linea divisuale, ovvero, come fate a capire se mi posso muovere, che ne so, da questa casella a questa o da questa a questa? Vedete, ci sono delle X. Nelle X, praticamente, tracciate una linea divisuale immaginaria, o prendete un metrino, insomma, guardate, se qui c'è una X e qui c'è una X, vuol dire che questa zona è in linea divisuale con questa, ok? Però, se ad esempio, qui c'è una X e qui non c'è, vuol dire che non c'è linea divisuale diretta fra quella zona e questa. Vi faccio un esempio. Tra questa, però, e questa, c'è una zona divisuale, ok? Perché, vedete, c'è una X, è una X. Però, se voi ci tirate una linea fra queste due, vedete che passa in mezzo a un'altra stanza, che è un corridoio. Quindi, vuol dire che la linea divisuale, in quel caso, laggiù, è interrotta. Questo cosa vuol dire? Che io, quando, ad esempio, dovessi rivelare un incontro, se un incontro è qui e il mio personaggio è qui, come vedete, XXX, vuol dire che c'è, tracciandone nella retta, la visuale. Quindi, vado a girare, vedo cosa c'è dietro, e nel caso risolvo l'incontro, oppure pesco un mostro e cose varie, sempre dalle carte che vi ho fatto vedere. Se, invece, questo fosse qua giù, per quanto la linea divisuale, cioè, le X ci sono, sono collegate, però voi prendete da qui e tirate una linea divisuale da una X all'altra, vedete che passerebbe in mezzo a varie stanze. Quindi, fate conto che ci sono i muri che coprono la visuale. Quindi, la linea divisuale deve sempre essere diretta. Tutte le azioni che si possono fare in gioco, tutte, costano un'azione gialla, quindi il personaggio di partenza ne può fare una soltanto. Ah, non c'è il numero di azioni, non è un gioco alla Zombicide. Tre azioni per il giocatore, no, no, no. Le azioni sono scritte qui. Quindi, se uno fa 20 azioni, le può fare tutte e 20. Può fare un attacco, ok, ha 6 punti ferita, ha un potere innato, e può fare un'azione costosa. Un'azione che costa, di solito è quella di aprire uno scrigno, oppure attivare un evento che c'è in gioco, oppure tirare una leva, perché ci potrebbero essere tante regole nel gioco. Mentre invece le azioni gratuite, che praticamente sarebbero questo simbolino giallo, bianco, sono azioni gratuite che potete fare sempre, tipo aprire una porta, in un dungeon non costa, è un'azione gratuita, quindi la potete fare. Oppure, che ne so, un vostro compagno vi ha lasciato un'arma per terra, voi la potete andare a pescare e mettervela direttamente nell'equipaggiamento. Però, prendere oggetti dal vostro equipaggiamento ed equipaggiarli, quella invece costa un'azione gialla. Quindi l'azione gialla è quella che potete fare nel turno. Nel turno, un personaggio di solito si muove, usa la sua azione e poi fa la sua azione di combattimento. Quindi vedete che il nano, a livello 1, Thorgar, può fare soltanto un'azione di combattimento. Le azioni di combattimento si fanno tirando i dadi. Se un personaggio non ha nessun'arma, tira un solo dado blu. Se un personaggio non ha nessun'armatura, tira un solo dado blu. Quando andrete a combattere, ora questo lo sposto, tanto è un evento che quando l'attivate leggete cosa succede, prendete il libro che vi ho fatto vedere prima, il libro dei segreti, andate a vedere sulla missione di cosa parla il capitolo 1, l'evento 1, e l'andate a pescare. Tanto ora vi faccio vedere poi dopo come girano gli eventi. Questo qui leviamolo per ora che ci dà solo fastidio. Thorgar fa un'azione di combattimento. Mettiamo caso che in uno di questi simbolini qui si è rivelato un mostro che gli va in corpo a corpo e quindi si trovano nella stessa casella. Vi ricordo ovviamente come in tutti i giochi fantasy, se uno avesse un'arma da tiro potrebbe tirare da un'altra distanza. Voi lo vedete sempre dal simbolino che c'è sull'arma con la gittata. Vuol dire 0, è normale un martello da guerra, quindi lo posso usare sulla gittata 0. Ci avesse scritto 4, l'avrei potuto usare anche a distanza 4. Importante, guardate sempre sulla cima delle carte, degli oggetti che andate a equipaggiare, i simboli che ci sono perché se il vostro personaggio non ha almeno uno di quei due simboli vuol dire che non può utilizzare quell'arma. In questo caso Thorgar ha questa specie di F che è il simbolo della runa di Gandalf, tra l'altro, altro richiamo che hanno fatto e praticamente vuol dire che può utilizzare questo oggetto. Ora, ricordatevi che il vostro personaggio ha sempre abilità innate quindi andate sempre a vedere che cosa ha sulla scheda. Comunque, andiamo a combattere, è il turno di Thorgar e vedete che ha un attacco. Cosa mi dice la scheda della sua arma? Tira due dadi rossi e due dadi blu. Questo ricorda anche un po' Descent, se vogliamo. Quindi vado a tirare i dadi che mi dice l'arma agitata a zero facendo il mio attacco. Io tiro i dadi e sono usciti vari simboli. Allora, un simbolo con una specie di colpito, sembra quasi un elmo con le corna, è sempre un simbolo di colpito. Uno scudo è un mancato, o meglio, uno scudo è una parata, però nel caso che ora non ci serve a nulla perché siamo noi che stiamo attaccando. Poi c'è altri tipi di simboli, come vedete qui sono usciti un corno, un'altra morta e un fulmine e invece in quest'atto sono usciti due fulmini. Ora, noi andando a prendere la carta che abbiamo utilizzato dell'arma più le abilità di Thorgar, quindi, che ne so, la scheda del personaggio per vedere se è attivato qualcos'altro, andiamo a leggere cosa è successo. Allora, i simboli di colpito sono colpito, non c'è da leggere niente di particolare sulla scheda. Quindi avrei fatto due ferite al gremlin, però abbiamo anche dei fulmini, come vedete, uno, due e tre fulmini in tutto. I fulmini si possono convertire come vedete qui. Thorgar potrebbe dire, ok, uso questi due fulmini per fargli più due danni, oppure, è il terzo che mi resta per fargli un KO. Cosa vuol dire? Che io spendo questi due, quindi non gli ho fatto solo due danni, ma gliene ho fatti quattro, che sono tantissimi, è andata veramente bene. Gli ho fatto quattro danni al gremlin e in più un KO. Vuol dire che voi prendete la pedina del gremlin, la dovete stendere a terra, insomma, non è morto, però per ricordarci che il gremlin è KO e quando si ha un mostro e che un personaggio vanno KO, non possono assolutamente usare la carta armatura per difendersi, ok? Quando verranno attaccati, tireranno soltanto un dado blu, perché sono stese a terra e quando uno è stese a terra, insomma, è un momento passargli le difese a colterlarlo, colpirlo alla gola o in qualche parte scoperta. Quindi il gremlin non userà la sua armatura. Prendiamo la carta del goblin verde che cosa ci dice? Intanto anche i mostri hanno un simbolino, hanno, qua su in cima vedete, hanno un simbolo in alta a sinistra che è sempre il personaggio preferito, poi vi faccio vedere perché, quindi in questo caso è quello che ha più monete e qua giù in fondo c'è il reward che ci danno. Una volta ucciso questo mostro ci darà 5 monetine che il taglio delle 5 monetine è sempre quello di rame, quindi ci darà una monetina di rame. Poi il taglio vedetelo sempre voi qui in fondo. E in più i punti ferita del mostro. Vi ricordate che io all'inizio vi ho detto che praticamente il mostro è sdraiato per l'abilità di Thorgar che ho usato, di KO. Quindi di quelle 4 ferite il mostro ora ha diritto a fare il suo tirarmatura che è tirare un dado blu. Però questo è un mostro particolarmente debole perché ce ne sono altri e come vedete su questa scheda del mostro non c'è assolutamente un valore di armatura. Ok? Quindi questo mostro qui, debolissimo, farà un tirarmatura perché è un'armatura in più esteso, blu. Tiriamo il dado, vediamo che ha avuto fortuna comunque è uscito uno scudo, dei 4 colpi ne leva 1, gli altri 3 entrano a 3 punti ferita, il gremlin viene ucciso, la carta viene rimossa e Thorgar prende il suo reward che può essere un reward sia in monete che in punti anima e anche i punti anima hanno un taglio di 1, 5 e 10 che sono questi qui che vi faccio vedere. Nel caso in fondo alla scheda del mostro tipo qua giù in bassa a destra ci fosse un simbolo dei punti anima con un punteggio vario che ne so 5 non solo prenderete queste monete le monete sono dell'eroe che l'ha ucciso quindi solo di Thorgar invece i punti anima vanno in un gruppo comune quindi le mettete in un mazzo comune e praticamente servono per passare di livello per comprare le abilità o per tornare in vita ma sono in un gruppo comune quindi sarà intento del gruppo dire quale sarà l'eroe che passerà di livello ricordatevi che per passare di livello dovete sempre moltiplicare il livello che volete raggiungere per se stesso quindi per arrivare a 2 a un livello 2 dell'anima quindi girandolo così e Thorgar diventa più forte dovete spendere 2x2 4 punti per arrivare a un livello 3 dovete spendere 3x3 9 ah anche se ci avete abbastanza punti anima per passare dal livello 1 al livello 4 non lo potete fare dovete fare tutti i vari step e mano a mano il personaggio diventa sempre più forte ha sempre più azioni lo vedete e tutto quanto queste vanno sempre in un gruppo comune quindi sono i giocatori all'unanimità che dovranno scegliere come utilizzarle finiscono bene o male le regole del gioco quelle del mostro che fa un movimento e per muoversi il mostro ha sempre delle regole particolari che secondo me sono la vera e propria figata di Sword and Sorcery quando un mostro si muove mettiamo caso che il mostro sia qui si prende la sua carta dell'intelligenza artificiale che è la cosa più bellina in assoluto intanto anche qui mette vari tipi di attacchi che potrebbe avere il mostro vedete no questo è il gremlin blu e ci fa vedere il gremlin blu che tipi di attacchi ci farà poi in più dobbiamo andare a vedere il suo tipo di nemico preferito che è il nemico che ha più soldi l'eroe che ha più soldi mettiamo caso a Thorgar perché prima ha preso quelle 5 monetine è attualmente l'eroe con più soldi quindi il suo preferito sarà questo qui che i gremlin vanno a giro a rubare tesori a portarseli via quindi qua giù vedete c'è le regole dell'intelligenza artificiale che dice c'è qualcuno entro 0 dal mostro? no nella stessa casella non c'è nessuno c'è qualcuno entro 1, 2, 3? sì effettivamente c'è Thorgar l'intelligenza artificiale dice che se c'è qualcuno entro 3 che sia il suo preferito muove fino ad ingaggiare con artigli occhio se qui ve ne faccio vedere un'altra mortobellina se qui ci fosse stata la ladra un altro personaggio ok cosa ci dice? a distanza 0 c'è qualcuno? sì c'è la ladra Shai in corpo a corpo ok l'attacca con gli artigli no fermi perché Shai non ha monete e Thorgar comunque ha più monete di Shai loro vanno sempre verso l'eroe che è il loro preferito ovvio se non può arrivare in corpo a corpo per un motivo o per un altro perché chiuso in una stanza barricata loccata che non ci può entrare attaccherà Shai però i mostri andranno sempre ad attaccare se possono il loro acerimo rivale quindi il predestinato a prendersi l'attacco in questo caso qui comunque andrebbe dal nano e gli farebbe l'attacco con gli artigli e l'attacco con gli artigli dice che è un attacco arma primaria perché in questo gioco si possono avere armi primarie ed armi secondarie ed armi a due mani se un'arma al simbolino dell'arma primaria non può essere messo nello slot arma secondaria e così via gli va a fare l'attacco che dice l'attacco che gli farà con gli artigli è di due dadi rossi con un modificatore di meno una all'armatura quindi l'armatura di Thorgar che vedete che è qua giù e vi faccio vedere come funziona l'armatura di Thorgar che è questa qui gli dà uno di armatura ma questo attacco gliela nega ora praticamente il mostro tira e fa una stella un colpito e un altro simbolino qua giù si va sempre a vedere sulla scheda del mostro quei simbolini lì cosa vogliono dire si prende la carta del mostro si va a vedere se ci sono quei simbolini lì ho preso quello verde sarebbe quello blu ragazzi ma è uguale si va a vedere toh lo cambio si fa prima si va a vedere i simbolini che ci sono sopra non ha simbolini particolari non attiva niente quindi praticamente l'unica cosa che fa Thorgar è un punto ferita ora quel punto ferita lì sarebbe facilmente bloccato dall'armatura di Thorgar perché ha un valore di 1 quindi vuol dire che il valore dell'armatura automaticamente si sottrae al danno però in questo caso qui gliela ha tolta quindi il danno entra però Thorgar ha diritto anche a tirare 3 dadi blu quindi tira prende 3 dadi blu li tira intanto ha già parato dei colpi però nel caso con l'armatura di Thorgar potrebbe aver attivato qualcosa che ne so col fulmine attiva questo e con i due fulmini invece li da più una difesa automatica e questo ragazzi è tutto il gioco poi ovviamente le regole di movimento d'attacco è tutto perché poi non vi ho detto che ci sono anche le carte dei poteri le carte dei poteri che possano essere attivate con un costo quindi questa costa quell'azione gialla che vi dicevo questa invece è gratuita praticamente la potete fare tutti i turni non vi costa assolutamente niente e una volta che l'avete utilizzate le carte dovete prenderla girarla sull'altro lato con impostando sul livello di anima che avete utilizzato quindi questa nel caso si gira così perché abbiamo usato un livello di anima 1 facciamo conto che di questa abbiamo usato un valore di anima di 4 perché noi siamo valore anima 4 quindi questa andrà girata invece al livello 3 che c'è disegnato qui accanto a destra quindi questa andrà girata così le carte tornano a essere utilizzate a fine di ogni turno quando finisce il turno che tutti gli eroi hanno mosso i nemici hanno attaccato e cose varie che vi ricordo i turni sono alternati azione tutto il turno del nano turno dei mostri turno di shae turno dei mostri 1 e 1 sempre 1 e 1 nano mostri shae mostri guerriero mostri e una volta che è finito tutto il turno degli eroi quindi non solo quello di un eroe ma tutti gli eroi le carte vanno stappate quando arrivano praticamente qua su in cima muovendosi ristappandosi in senso orario si rigira e la carta è utilizzabile questa no perché vedete dovrebbe fare un altro giro così in quel turno e nel turno dopo invece la andrà a girare a stappare e risalebbe utilizzabile questa si chiama fase di ricarica poi completano ovviamente la sequenza del turno il mazzo 20 che ogni volta che inizia il turno nuovo voi andate a prendere poi seguite sempre l'avventura è quello che c'è scritto andate a prendere il mazzo degli eventi e se c'è se non c'è nessuna carta rivelata ne rivelate una nel turno degli eventi se invece ce n'era già una rivelata quindi nel turno prima la scartate e non succede niente la scartate soltanto nel turno successivo ne girate un'altra quindi praticamente gli eventi vengono rivelati nella misura di un evento per ogni due turni ragazzi il gioco è tutto qui poi ovviamente il manuale ve lo spiega 100.000 volte meglio però bene o male le regole principali per giocare sono queste ovviamente se prendete punti ferita ci sono i segnalini da mettere sulle schede e quant'altro ragazzi per spiegarvelo ci ho sudato però ora vi spiego un attimino il perché allora questo è un regolamento che mi ha fatto un effetto ve lo giuro morissi ora che non mi ha mai fatto effetto nessun altro board game nessun altro board game veramente di tutti quelli che abbiamo perché il manuale è di 50 pagine di solito quando vedo una cosa del genere io mi metto paura perché c'è troppo da legger c'è un gioco deve essere immediata mi piacciono quei giochi dio benedica che ha fatto talisman che lo compri subito appena comprato è il gioco del local lo metti in tavola i giochi o anche un hero questa no e questo gioco invece prende il manuale c'ha 50 pagine fai vabbè mi ci vorrà una settimana per leggerle tutto prima di fare una partita con gli amici ed è qui l'errore perché boh fa strano andavo avanti leggevo una regola e mi era già rimasta in testa poi ci sta che qualche errorino l'ho fatto però diciamo che il fulcro il zucco del gioco mi era rimasto in testa una cosa un'altra perché perché questo gioco si rifa ovviamente prende a piene mani da vari regolamenti che abbiamo visto ad esempio quello che mi viene in mente molto più simile come tipo di narrazione prende tanto da hero quest come tipo di gioco è tipo descent no della giochi uniti e quindi comunque prende tanto a piene mani anche i tile componibile cose del genere per quanto non c'è la fog of war che io grazie perché una cosa che ho odiato di descent è che la mappa nella seconda edizione viene composta passo dopo passo qui non c'è qui il dungeon già lo vedete tutto però ci ho sudato perché ragazzi è una cavolata vi giuro non vi fate scoraggiare è il gioco più facile del mondo però c'è troppe cose da tenere a mente troppe perché poi i mostri hanno la carta mostro che è quella che vi ho fatto vedere più la carta attivazione con l'intelligenza artificiale gli eroi hanno la loro plancia eroe che è questa qua giù questa qui poi hanno il mazzo dei poteri poi hanno il mazzo dell'equipaggiamento e dell'armatura poi hanno la gemma dell'anima poi hanno i soldi poi hanno l'esperienza cioè c'è troppe troppe cose da tenere a mente ma non vuol dire tante regole complicate perché poi alla fin fine secondo me di quel manuale di 50 pagine si potevano ridurre tranquillamente a 20 ma anche 15 solo che questo gioco ha voluto buttare troppa carne al fuoco e quello è il fatto cioè si poteva snellire molto di più molto molto ora non pretendo ci fosse un app però si poteva snellire molto 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 di più e uno si scoraggia mettiamola così lo prende Dio Bona vada lì che casino e pensa che su Hero questa dovevo tirare due dadi oppure su mettano troppa carne al fuoco gli autori di questo gioco però il prodotto complessivo che gli viene fuori mi sento di dire che è unico perché le emozioni che mi ha dato questo gioco soprattutto poi ci sono 300 regole che non vi ho detto soprattutto le versioni potenziate dei mostri che già vedete verde di solito è un mostro base ok quindi il mostro il più basso della catena alimentare dei mostri poi c'è blu che è un mostro leggermente più forte arriviamo diciamo un elite arriviamo al mostro rosso che è un mini boss e a quelli porpora che sono dei veri e propri boss e le boss fight sono una figata assurda perché entra una nuova regola che è bellissima questo gioco si avvicina molto agli hack e slash o morp come nei morp ci sono le classi quindi c'è il dps che è tipo l'arciere quello è un corpo a corpo il guaritore perché il nano può fare anche il chierico e il tank una figata assurda che c'era un tokenino qui da qualche parte che è questo qui che non vi ho fatto vedere ce n'è uno solo ma è quello più importante è una figata assurda perché anche i boss come dei mostri normali hanno le loro attivazioni e quindi a seconda del bersaglio che hanno e delle regole degli attacchi dell'intelligenza artificiale si muovono in una certa maniera ma la cosa bella è che intanto vanno a taggettare il loro bersaglio principale quindi nel caso Thorgar perché c'ha più monete e Thorgar si dovrà mettere questo token con un livello di 1 addosso nel caso Thorgar facesse un'altra ferita al mostro una più ferite metterà il token livello 2 questo è l'aggro cioè una figata se un Thorgar che è forte continua a picchiare il mostro se lo tiene a grato però per ogni ferita che gli verrà fatto da un altro eroe questo da 2 scalerà 1 un'altra ferita da un altro eroe scala va via scala a 0 e va in mano del giocatore che ha fatto l'ultima ferita con un livello di 1 quindi è bello perché c'è anche la meccanica di aggro che spiega Thorgar se è più forte tienitelo un corpo a corpo e noi intanto lo mazzoliamo anche perché i mostri a volte hanno anche 20 punti ferita e non è facile fargli perché hanno armature poteri speciali e quant'altro e poi l'ultima cosa che vi ho detto c'è la forma spirituale dell'eroe che una volta che è morto può continuare a giocare con regole particolari ora questo gioco ha troppe cose da tenere a mente però una volta che entri nelle meccaniche è veramente facilissimo quindi se li devo dare un voto e ora poi vi dico nel complessivo anche perché è un voto molto positivo perché l'ho trovato unico vi dico la verità questo è l'evoluzione no forse non tanto l'evoluzione diretta di Descent perché poi Descent con l'espansione ha preso un'altra strada questo è come avrei voluto che fossi io Descent vi dico la verità quando giocavo a Descent mi sentivo che c'era qualcosa che gli mancava e l'ho ritrovato in Sword and Sorcery allora il mio gioco preferito Dungeon Crawler è e resterà per sempre Hero Quest anche perché ci sono cresciuto ma se vi dovessi dire dopo Hero Quest cosa scelgo scelgo questo questo ragazzi è unico è veramente bellissimo ha una modalità storia e campagna che vi ci fa calare veramente nella parte ragazzi è un gioiello vale oro e se le devo dare un voto li do assolutamente un 9 su 10 meritatissimo se cercate un Dungeon Crawler fatto bene di medesimazione soprattutto finalmente con delle belle meccaniche delle boss fight che vi sembra di essere su World of Warcraft non sto scherzando sembra di essere su World of Warcraft è il gioco in assoluto che fa per voi amanti degli hack and slash dei morp è il gioco che fa per voi è il Dungeon Crawler provato finora più bello che mi ha divertito da morire infatti penso proprio che con mia moglie vi porteremo poi un gameplay la campagna ve la farò vedere tutta fino in fondo perché comunque mi garba da morire comunque magari entro un mese due mesi vero amore ci si fa una giocatina li si fa vedere contaci conto e come ho detto non è difficile è complesso c'è tante cose da tenere a mente però una volta che padroneggerei poi io se vi scappa una regola ragazzi chi se ne frega un solo di quelli che io ho sbagliato una regola te lo devo fare presente no sta regola non è così i giochi sono fatti per divertirsi se di 12 regole ve ne scappano due pensate a divertirvi cacchio ve ne frega comunque è fatto bene e il regolamento di ben 50 pagine che è immenso vi spiega assolutamente tutto quindi vi sfugge qualcosa andate a vedere c'è scritto anzi ve le spiega anche troppo bene sembra scritto da me sto regolamento talmente tanto è è logoroico quindi un 9 su 10 ringrazio ancora una volta Davir per averci offerto una copia omaggio ringrazio anche Ares ovviamente Ares e Davir tutte e due e grazie ragazzi è un onore collaborare con voi ragazzi prossimamente dove l'ho messo è qui vi faremo vedere anche l'unboxing e ovviamente vi spiegheremo anche le regole dell'espansione verso le tenebre che arricchisce di molto il gioco e tra l'altro porta avanti la storia perché questo se non erro c'era anche scritto da qualche parte espansione della campagna per eroi di anima 4 o 6 perché ricorda all'inizio il massimo dell'anima del livello che si può raggiungere per tornare leggendari e 6 quindi questa non la potete giocare a meno che non siete arrivati a quel livello però comunque siccome continua la storia del gioco degli eroi vedetevi prima il gioco base e poi dopo giocherete a quello ovviamente in descrizione trovate il link dove acquistarlo tutti i nostri social e le nostre pagine fatemi sapere cosa ne pensate ciao ragazzi alla prossima